Il secondo incontro tra la delegazione ucraina e quella russia tenuto in una località sul confine tra Bielorussia e Polonia di fatto è soltanto un'anticipazione a quello che sarà il terzo incontro. La volontà delle parti rimane sostanzialmente sempre la stessa e da parte russa emerge come la determinazione sia ben che presente. Al momento le parti sembrano mantenere le loro posizioni in riferimento alle richieste da parte dell'Ucraina. La volontà è quella che la Russia si ritiri dal contesto dell'Ucraina stessa ma contemporaneamente invece la Russia ritiene opportuno che l'Ucraina riconosca la sovranità russa sulla Crimea, l'autonomia delle repubbliche del Donbass ma soprattutto una demilitarizzazione del territorio e una non adesione alla Nato ovvero una neutralità nel futuro del paese. Tutto quanto fa presagire che il terzo incontro si mostrerà sicuramente più indicativo nella direzione della comprensione di quale sarà il futuro di questa drammatica esperienza. Intanto le truppe russe stanno avanzando sempre di più. La determinazione di Vladimir Putin si sta mostrando anche nel contesto del Mar Nero. La città di Odessa rappresenta un punto e un obiettivo assolutamente fondamentale. Sostanzialmente è questione di tempo per l'Ucraina e intanto la contrapposizione nell'ambito della comunicazione sembra riportare alla memoria fantasmi del passato da parte di Volodymyr Zelensky. La direzione è quella di utilizzare la strategia della paura. Infatti Zelensky ritiene che se l'Ucraina dovesse cadere i prossimi obiettivi della Russia sarebbero la Lituania, la Lettonia, l'Estonia, la Polonia fino a giungere a Berlino riportando alla memoria quanto accadde nel contesto della seconda guerra mondiale in quella contrapposizione che soprattutto tra Germania e Russia ha visto milioni di morti. Contemporaneamente però la Russia evidenzia come la missione sia giustificata da una volontà di sostanzialmente eliminare tutte quelle forme di nazismo presenti nel contesto dell'Ucraina. Anche qui un ricordo, un tornare indietro alle paure del passato. Nel frattempo in Germania i primi effetti anche di questa comunicazione politica quando di fatto si è registrato atti di discriminazione nei confronti di cittadini tedeschi di origine russa. Insomma l'Europa sta vivendo un ritorno, un ritorno quantomeno con la memoria a quanto è sempre accaduto nel contesto del continente, un continente caratterizzato da contraposizioni, da guerre nei secoli e che di fatto hanno sempre mantenuto la memoria nelle generazioni e che nelle occasioni poi di fatto esplodono portando la guerra anche nella quotidianità dei cittadini. Per oggi questo è tutto.